What the hell? che lancio anche questo vai Caterina che super lancio bravissimo bravo ti ho paura di venire ah che è bene è così è così c'è una piramide c'è una piramide c'è una piramide che veloce che scoppia ehi non si danno botte è una piramide c'è una piramide c'è una piramide c'è una piramide e non c'è guardate tutto via ehh pregiato non ci risulta che gli uomini abbiano mai inventato qualcosa per fare il sole non ci ricorda 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 Poi riprendere il fiume da parte Oggiung! Oggiung! Guarda, c'è una, c'è due bastoni. Quale, quale, quale? Questo qua. Ehi! Ma, ma è buongiorno? Buonanotte, buonanotte. Oh, oh, ma è giorno, è giorno, è giorno. O è notte. Spero sai di chi sono questi? Dammi il coso che mi chiami. Sai di chi sono questi? Di chi sono? Di quale bambino? Di chi cazzo? Chi è il mio bambino? Ti ricordi il nome del mio bambino? Sì. Come si chiama? Le... O... Na... Do... Chi va di cerdo in giro, chi ama il mio lavoro, non sa con quanto amore, mi dedico al tritore, e quasi indipendente, ancora poche ore. Poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio pinocchio fragile, parente artigianale, di ordigni costruiti, su scala industriale, di me non farà certo, un cavaliere del lavoro, io son d'un'altra razza, son bombarolo. Nel scendere le scale, ci metto più attenzione, sarebbe imperdonabile, giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui, la direzione è mia, fra la condanna a morte, o l'amnistia. Per strada molte facce, non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza, si ammala di terrore, c'è chi aspetta la pioggia, per non piangere da solo, io son d'un'altra avviso, son bombarolo. Ehi! 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 Ehi!